Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Teramo ed Ecco Italia hanno realizzato un'indagine sul mercato del lavoro della provincia di Teramo, a cui hanno partecipato oltre 100 aziende del territorio. I dati sono stati presentati nel corso dell'evento svoltosi presso la sala polifunzionale della provincia, dal titolo Futuro e lavoro, politiche attive e nuove competenze per l'occupazione, a cui hanno preso parte i rappresentanti del mondo imprenditoriale istituzionale, sindacale ed accademico, chiamati a individuare le competenze future necessarie per un mercato sempre più in evoluzione. Prima dell'avvio dell'evento è stata annunciata la nomina di Luciano Deremigis al nuovo direttore di Confindustria Teramo. L'incontro è molto importante anche perché, devo essere onesto, il Comitato della Piccola ha fatto un ottimissimo lavoro, una survey molto importante, che ci dà una fotografia molto precisa di quali sono le ricerche a livello lavorativo della provincia di Teramo. Dalla survey si legge benissimo che sono ricercate figure che abbiano sicuramente una conoscenza delle lingue straveniere, che sappiano lavorare in team working, ma che sappiano anche gestire sia se stessi sia il personale con il quale devono lavorare. Quindi si cercano delle figure un pochino più a 360 gradi, non più solo destinate a fare ciò per cui hanno studiato, ma anche ad avere una visione un pochino più ampia di tutto il mercato del lavoro. Noi cerchiamo di andare sempre a braccetto con le associazioni, le istituzioni locali e soprattutto, come in questo caso, con tutti coloro che cercano di fare quell'operazione di cuscinetto tra il momento della formazione e quello dell'entrata nel mercato del lavoro. Un momento importantissimo, fondamentale soprattutto in un'area come questa, che è caratterizzata da piccole, anzi da micro imprese, che poi difficilmente riuscirebbero a selezionare correttamente il personale. Fare un punto, ma soprattutto capire i dati, costruire percorsi virtuosi che possano formare i lavoratori, e non per essere più competitivi, ma proprio per rendere anche più competitivo il mondo delle imprese. È fondamentale perché in un momento così forte di crisi, in cui ci sono tanti fattori, dai costi della materia prima, dai costi dell'energia, del carburante e anche purtroppo la guerra in Ucraina, dobbiamo pensare ad essere sinergici su un territorio, come la provincia di Teramo, come la regione Abruzzo. Quindi oggi è anche una volontà di far fermare, incontrare tutti gli stakeholder, per cercare, partendo dai dati, di costruire percorsi virtuosi di sinergia per il rilancio del mondo del lavoro, del mercato e della competitività delle aziende.